e per tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Rossini in questo nuovo video in cui parliamo prima di cercare il video ragazzi iscrivetevi al mio canale che saremo in live dalle 3 e mezza alle 6 e mezza di tutti i matti di giocci quindi raga adesso lascio il video e raga oggi andiamo è ufficiale raga Paolo Nicolato è un nuovo allenatore dell'Italia Under 21 infatti raga è stato l'ufficialità proprio in una fa Paolo Nicolato che è l'ex allenatore dell'Under 20 e dopo le esperienze dell'Under 20 lui è pronto a fare il prossimo passo diventare il nuovo allenatore dell'Under 21 e Paolo Nicolato andrà a sostituire Luigi Di Biaggio che dopo la diluizione di Luigi Di Biaggio come abbiamo parlato nelle missioni di Di Biaggio ragazzi ormai Paolo Nicolato si è messo a disposizione dell'Under 21 e è diventato ufficiale nuovo allenatore dell'Under 21 oggi è spesso che si è prima parola come nuovo allenatore dell'Under 21 dicendo che è molto emozionato e ringrazio il presidente che ha dato questa opportunità per me Paolo Nicolato aver allenato l'Under 20 sembra molto adatto nella vita dei giovani dell'Under 21 e spero proprio che farà meglio quindi molto di più di Biaggio che guardate contro gli europei abbiamo perso gli europei ragazzi ma non a causa di Biaggio ma un po' a causa sua ma fa Francia e Romania se vi ricordate che hanno pareggiato quindi ragazzi Nicolato sarà lui il nuovo allenatore dell'Under 21 quindi ragazzi io le dico la mia lui le dico è un buon allenatore Paolo Nicolato per l'Under 21 e ragazzi come ho detto prima se ne generava l'Under 20 l'Italia l'ha studiato anche quando ne generava l'Under 20 quindi ha scelto lui per la panchina ora vedremo come se la caverà a guidare la nazionale l'Under 21 spero che un po' nell'anno prossimo o tra qualche anni potrà ci potrà aiutare a vincere il mondiale dopo quel mondiale europeo 2019 che non siamo riusciti a portare a casa bianchi a giocarlo tutto quindi ragazzi spero proprio che Nicolato farà molto bene e la guida l'Italia ha fatto molto bene a convincere Paolo Nicolato quindi ragazzi fatemi sapere qualcosa ne pensate di Paolo Nicolato come un dono dell'Under 21 io vi dico la mia per me è un ottimo allenatore che potrà dare meglio l'Italia potrà portare l'Italia dove merita quindi ragazzi da allora soprattutto noi sempre non ci vediamo questo video non ci vediamo stasera con l'Olanda con l'Olanda femminile contro la Svezza femminile e non ci vediamo dopo con questo mondiale femminile con altre partite quindi ragazzi da allora è tutto ciao con l'Olanda